Vera svolta o operazione di facciata? La decisione che il WTO, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, che riunisce 164 paesi, ha preso sui vaccini, sta facendo molto discutere. È un risultato senza precedenti. Si rallegra la direttrice Ngozi Okonio Iweala, che sottolinea come farà la differenza nella vita delle persone in tutto il mondo. Ma le organizzazioni non governative e le reti di attivisti che in questi anni hanno affrontato la pandemia parlano di accordo vergognoso, fatto per salvare la faccia, non vite umane. Oxfam, Medici Senza Frontiere, Emergency, Right to Cure, People Vest in Alliance, tutti bocciano l'intesa, arrivata dopo 20 mesi di trattative, perché di fatto non sospende i brevetti sui vaccini, ma rafforza soltanto le licenze obbligatorie, cioè la possibilità che stati come India e Sudafrica producano vaccini senza l'autorizzazione preventiva delle aziende farmaceutiche che detengono la proprietà intellettuale. E poi, osservano le ONG, l'intesa riguarda solo i vaccini e non le terapie e la diagnostica, strumenti chiave per la lotta al virus. Oxfam ed Emergency accusano l'Unione Europea che ha bocciato ogni tentativo di accordo che significasse una reale rinuncia alla proprietà intellettuale. Regno Unito e Svizzera che, dicono, hanno lavorato al peggioramento di qualsiasi testo. Gli Stati Uniti, che hanno negoziato dietro le quinte per ridurre l'impatto e la portata dell'accordo. La condotta dei paesi ricchi è stata vergognosa, concludono, mentre il monopolio delle multinazionali del farmaco rimane intatto.